C'è tutta la differenza tra sogni e realtà in questo divertente video e in realtà uno spot per un sito di annunci norvegese. Con disarmante ironia si raccontano le fantasie di tantissimi foto amatori che con una reflex in mano ed un super obiettivo si sentono già come Robert Capa o Salgado. Capita soprattutto agli lettanti di volare col pensiero nei luoghi più selvaggi del mondo per poi ritrovarsi però in una situazione totalmente differente e molto più casalinga.